eccoci insomma design design tutto italiano fatto con più di 30 tipi di legni 1 2 3 4 30 insomma con questa vista mozzafiato del golf di napoli perché ci vuole anche immaginazione l'arte giusto assolutamente insomma l'arte e l'arte è fatti da parte casa italia piena di arte direi l'arte della bici davide e voglio dire questa è una tappa molto importante beh sai siamo le olimpiadi tra l'altro quest'anno abbiamo dovuto aspettare un anno in più perciò hai fatto almeno tre 40 mila chilometri in più e si 40 mila chilometri in più perché come tu ben sai ciclisti fanno quasi 40 mila chilometri ogni anno in bicicletta ragazzi con pochi tagliandi e senza cambio dell'olio elissa insomma una delle prime medaglie con la forza di volontà si arriva lontanissimo questo sicuramente sì io arrivo lontanissimo ma pianissimo a nuoto un po di nuoto se vuoi due lezioni io ci sono volentieri grazie lo sai che una volta ho fatto l'eroica ah sì senza bucare senza bucare beh sei già un eroe complimenti ancora grazie ciao grazie a tutti